Buon pomeriggio da Sicilia 24 e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano. Ricordate l'omicidio della piccola Elena avvenuto lo scorso anno, il fatto che sconvolse l'intera comunità di Masca Lucia nel Catanese. Ci sono delle novità su questa vicenda. La procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la 24enne rea confessa dell'omicidio della figlia Elena di neanche 5 anni, uccisa con un'arma da taglio nel giugno del 2022 e seppellita in un campo vicino casa a Masca Lucia. I reati contestati sono omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. L'udienza davanti al GIP si terrà il prossimo 17 aprile. La donna, che avrebbe ucciso la piccola nel luogo del ritrovamento, finse il sequestro della bambina all'uscita dall'asilo da parte di una banda di rapinatori. Martina Patti ha poi confessato il delitto, ma non ha spiegato il movente. Una delle piste battute dai carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno indagato è stata la gelosia nei confronti dell'ex compagno e padre di Elena, Alessandro Del Pozzo. Cambiamo argomento, parliamo adesso dell'importante operazione antidroga svolta dalla polizia nell'Agrigentino, operazione che ha portato all'emissione di 26 misure cautelari con 25 persone finite in carcere. 25 persone in carcere, delle quali 14 sono di Licata, 1 di Canicattì, 6 di Gela, 2 di Catania e 2 Campani. Una donna di Licata è stata invece sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono dunque 26 le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia eseguite dalla polizia fra Licata, Gela, Catania e Campobello di Licata. La squadra mobile di Agrigento, coordinata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, ha condotto per oltre un anno e mezzo una complessa attività investigativa che ha permesso di deferire all'autorità giudiziaria oltre 40 persone ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e in alcuni casi anche di armi. Le indagini si sono concentrate su un agglomerato abitativo popolare di Licata, tradizionalmente noto come Bronx. Proprio questo ha reso l'indagine particolarmente complessa, sia per la conformazione topografica del quartiere, nonché per l'omertà che caratterizza l'area. A Siracusa i carabinieri della stazione Belvedere hanno tratto in arresto, su ordine dell'autorità giudiziaria, un pregiudicato di 50 anni, il quale nel 2016 si era reso responsabile di porto illegale di arma da fuoco. La pattuglia lo ha così rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento definitivo. Notizia da Catania, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti, con i carabinieri che hanno tratto in arresto un pusher nel quartiere Librino. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne catanese già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa nel quartiere di Librino, hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti già gravati da precedenti specifici relativamente alla commissione di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri si sono pertanto presentati anche a casa del 35enne in una traversa di stradale Cravone, dove al termine delle attività di ricerca hanno ottenuto riscontri. In particolare, all'interno di una scatola di scarpe riposta nell'armadio della camera da letto, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 35enne due involucri in cellofan contenenti complessivamente 88 grammi di cocaina, un involucro contenente 53 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione digitale perfettamente funzionante. All'interno del medesimo armadio, in una custodia per occhiali, sono stati trovati due involucri contenenti complessivamente 15 grammi di cocaina un involucro contenente 20 grammi di crack, due contenenti 20 grammi di marijuana, nonché un foglio di carta con appunti relativi all'attività di spaccio e materiale vario idoneo al confezionamento. La sostanza stupefacente trovata all'interno è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri che hanno associato il 35enne presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. Cambiamo argomento, restiamo però nella catanese. In questo caso la notizia arriva da Zafferana Etnea, dove una coppia di ladri è stata invece incastrata dalle telecamere di videosorveglianza, ovviamente mentre stavano cercando di mettere a segno un furto. Sono poi intervenuti i carabinieri. Uno dei malviventi è stato tratto in arresto, l'altro invece denunciato il servizio. I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 26enne per tentato furto aggravato in concorso e denunciato per le medesime motivazioni un 49enne entrambi del posto. Presso la caserma zafferanese era giunta una telefonata con la quale un cittadino segnalava un furto ancora in atto nella sua abitazione di Via delle Querce. ad opera di due malviventi che aveva scorto grazie al sistema di videosorveglianza a sua volta attivato dal sistema d'allarme. L'equipaggio della pattuglia delle stazioni in servizio perlustrativo nella zona è arrivato tempestivamente cogliendo di sorpresa i due che alla loro vista hanno cercato di darsi alla fuga attraverso il bosco circostante ma uno di essi è stato subito bloccato dai militari mentre l'altro, approfittando dell'oscurità, è riuscito a far perdere le sue tracce. La coppia di ladri, in particolare, giunta a bordo di un'auto di colore bianco di proprietà dell'arrestato, aveva già visitato altri due billini confinanti tagliandone la recinzione ma l'ultimo obiettivo, grazie appunto alle telecamere nascoste ha consentito ai militari di riconoscere e quindi denunciare il complice fuggitivo. Il 26enne è stato invece posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Ancora sbarchi a Lampedusa, parliamo ovviamente di migranti. Sono tre gli sbarchi nelle ultime ore, o meglio nelle scorse ore, con 73 migranti arrivati sull'isola di Lampedusa. Imbarcazioni che sono state soccorse dalle motovedette della Capitaneria di Porto. A bordo di questi tre barchini c'erano 35, 18 e 20 persone, tra loro anche una donna incinta. Tutti i migranti sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada in Briacola dove continuano i trasferimenti. Oggi infatti ne erano previsti 387 imbarcati su un aereo diretto a Crotone, altre 89 persone su un pattugliatore della Guardia di Finanza con destinazione Pozzallo nel Ragusano e poi ancora 183 persone sulla nave Galaxy, in questo caso destinata a Porto Empedocle. A disporre i trasferimenti è stata la prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale. Ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di alleggerire la struttura di primissima accoglienza presente a Lampedusa, ovvero l'hotspot di Contrada in Briacola dove erano presenti oltre 1700 persone a fronte però di una struttura che può ospitarne meno di 400. Dunque una situazione certamente di grande emergenza e appunto per questo sono stati programmati questi trasferimenti di migranti. Ovviamente bisogna considerare che nella giornata di oggi o nelle prossime ore potrebbero però verificarsi altri sbarchi. Notizia da Milazzo, nel Messinese, dove sono scattate le manette per un 32enne. Si tratta di un pusher arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere. Crack e cocaina sono stati sequestrati dai poliziotti del commissariato di Milazzo a carico di un pregiudicato 32enne milazzese residente a San Filippo del Mela nel corso di mirati servizi antidroga effettuati nell'ultimo fine settimana. L'uomo, sottoposto a controllo nei giorni precedenti e già segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo i poliziotti lo hanno individuato mentre scendeva da un'auto in un'area di sosta e raggiungeva a piedi un'uscita di servizio generalmente utilizzata dai mezzi di soccorso. Plausibile il tentativo di eludere ogni possibile controllo raggiungendo Milazzo a piedi attraverso questa via secondaria e bypassando in tal modo i caselli autostradali nei pressi dei quali generalmente insistono eventuali posti di controllo. Vistosi sorpreso, il 32enne ha tentato la fuga scavalcando la rete di recinzione ma è stato velocemente raggiunto e bloccato. Inutile altresì il tentativo di disfarsi della sostanza stupefacente che aveva con sé. La droga, circa 20 grammi di crack e 5 di cocaina, è stata recuperata e sottoposta a sequestro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel corso dei servizi antidroga svoltisi a Milazzo nel trascorso fine settimana segnalato altresì all'autorità amministrativa un 23enne messinese quale assuntore di sostanza stupefacente. In totale, nell'ultimo weekend, a Milazzo sono state identificate 244 persone e sottoposti a controllo 129 veicoli denunciati due soggetti per guida in stato di ebrezza da alcolici con contestuale fermo amministrativo del relativo mezzo ed elevate 4 sanzioni ai sensi del codice della strada. A Trapani, invece, il questore ha emesso due DASPO urbani nei confronti di altrettanti soggetti autori di due diversi reati. Per loro è quindi scattato il divieto di accedere in determinate zone della città. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi il questore di Trapani ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto DASPO, nei confronti di altrettanti soggetti i quali si erano resi responsabili di reati commessi nelle scorse settimane rispettivamente nel centro storico di Trapani e nella zona dei parcheggi che servono la funivia Pereri-Cevetta. Il primo, un giovane in evidente stato di ubriachezza, aveva molestato e infastidito gli avventori di taluni esercizi pubblici esistenti sul lungomare di Trapani aggredendo e oltraggiando poi i poliziotti intervenuti su richiesta dei cittadini. Per tali fatti è stato deferito all'autorità giudiziaria. Il divieto di accesso notificato gli impedirà al giovane per un periodo di un anno di frequentare, accedere, transitare o sostare in tutte le attività commerciali del lungomare e il suo prolungamento viale Regina Elena pena la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Il secondo provvedimento invece è stato emesso nei confronti di un uomo trapanese il quale, presso i parcheggi che servono la stazione a valle della Funivia di Erice, chiedeva soldi molestando avventori e turisti. Anche al destinatario di tale ultimo provvedimento saranno precluse, per un periodo di due anni, le zone dove aveva di fatto esercitato come posteggiatore abusivo incorrendo, in caso di violazione, nelle medesime sanzioni citate in precedenza. Parliamo di Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo monitoraggio settimanale effettuato dalla Fondazione Gimbe. In Sicilia arrivano conferme sul fronte dei dati. Infatti i nuovi contagi nell'isola continuano a essere in diminuzione, ma per tutti i dettagli. Vediamo il bollettino. In Sicilia, nella settimana, dal 10 al 16 febbraio, si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi Covid, meno 19,9%, rispetto alla settimana precedente. Sopra la media nazionale i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti positivi al virus. Lo dice il report della Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,9%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari allo 0,3%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari al 20,5%, a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari allo 0,9%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 15,6%, con quinta dose invece dell'8,5%. La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 27,1%, a cui aggiungere un ulteriore 3% solo con prima dose. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia24. A dopo.